Tututiru, tututiru, tutututiru Pericolo, pericolo, ciao sono Froxy Come devi morirre Salve a tutti ragazzi, bentornati su Mostorante 3 Ultimate, io sono sempre Dark Griever E oggi vi mostrerò il set che ho utilizzato per spiegarvi la balestra pesante Ovviamente ho il mio set misto, allora Già dovreste notare qualcosa che di solito non hanno tutti, e cioè la difesa Perché il mio artigliere ha una difesa, non dico come uno spadaccino per carità Però di solito la difesa dell'artigliere si aggira intorno ai 350 Io metto sempre l'elmo, raramente, raramente, attenzione Faccio l'elmo d'artigliere, ma quasi sempre lo spadaccino Quasi sempre lo spadaccino, perché voglio più difesa Allora, iniziamo Riduzione del rinculo, riduce il rinculo della balestra Trovo le balestre pesanti veramente con un grande rinculo Sono tutte veramente con un rinculo troppo alto Quasi tutte, quasi tutte, dovete avere quindi minimo rinculo più uno Però è consigliato il più due Tipo la Gem Moran, la Gem Moran ha rinculo alto Lì dovete avere per forza rinculo più due La Diablos per dire basta il più uno Quella che ho utilizzato nell'altro video Però, sinceramente, già che c'ero Ho detto, ma sì dai, mettiamo rinculo più due E vanno bene tutte le balestre Attacco più due Come avevo già spiegato Io preferisco mettere lo scudo Alle balestre pesanti E quindi ho messo delle skill che aumentano l'attacco Alchimia Oh, questa La trovo stupenda Perché essendo io Un giocatore che usa sempre Il tiro da covacciato e mi piace sparare a raffica I colpi Cosa succede? Li finisco in fretta i colpi Con Alchimia Ho il successo sicuro di tutte le combinazioni Non del 100% Perché mi porto i libri combo per quella cosa Servirebbe combina Alchimia, se un colpo o una qualsiasi combinazione Dice, guarda, hai la percentuale di produrre questo oggetto da 1 a 2 Con Alchimia ho sempre il massimo risultato Tipo i proiettili normali livello 3 Ho la possibilità da 2 a 4 Ecco, io ne faccio sempre 4 4, 4, 4, 4, 4 Punto debole Mentre i danni Quando colpisco parti dei mostri dove gli attacchi sono più efficaci D'artigliere è perfetto Perché, eh, dove puntiamo? Di solito è la testa Quindi ha voglia di sparare sulla testa Ok La tabella Ho avuto fortuna, eh All'inizio non l'ho calcolato più di tanto questo talismano Perché andando con lo spadaccino Scusate Era buono per l'attacco e basta Poi mettendomi lì ho detto Ma si dai, vediamo cosa può uscire Ed è uscito qualcosa di buono Vediamo lo specifico Temperanza Stigia Vabbè Questo è il balestrone Lo adoro di estetica È una moto È una moto alla fine se guardate bene Non è una balestra Quella dell'Ostige Non ho bisogno Di mettere nessuno spazio sull'arma Perché ho tutto sui set Chiedevo a Miralis Come avete visto 120 di difesa È dello spadaccino Perché mi interessava Attacco E tenacia No, tenacia no Che dico Mi servivano gli slot e l'attacco Eh, scusate Perché lo utilizzo Quasi sempre per tenacia Allora Mi sembrava strano Attacco Messo attacco Attacco più uno E alchimia Sull'Artian L'Artian è buona Perché ha cecchino Rinculo E due slot Dove ho messo Cecchino E alchimia I bracciali Artian Sono buoni perché hanno cecchino E rinculo E due slot E ho messo alchimia Fiancare l'Evangis Beh Torso più Ha moltiplicato Tutte le abilità Che ha il petto Quindi ci sono sdoppiate Anche le negative E i gambali del Diablos Perché sono stupendi Avendo Cecchino Ricarica Vabbè Che non interessa E rinculo E soprattutto Tre slot Dove sono andato a mettere Cecchino Più 4 E come ho detto Ho avuto fortuna Per questo talismano Eh vabbè Bene ragazzi Anche questa guida Su questo set misto È giunta al termine Spero che vi sia stata utile E noi ci rivediamo Come sempre Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi